Buongiorno o buonasera a tutti e a tutte, a tutti i fratelli, a tutte le sorelle e a tutti gli ascoltatori e anche coloro che ci vedono, ci stanno ascoltando il giorno d'oggi. Oggi noi ci rallegriamo meditando nella parola di Dio. Ci rallegriamo nel Signore cantandogli e ci sentiamo felici di aver conosciuto questo cammino. Pertanto siete tutti benvenuti. Io so che ci sono tante persone che non hanno avuto l'opportunità di andare alla nostra Chiesa. Noi ci congreghiamo nella Chiesa di Dio Ministeriale di Gesù Cristo Internazionale. E da più di 50 anni il Signore sta formando questa congregazione. Circa 50 anni fa eravamo quattro persone e un sabato, era circa l'una della mattina, stavamo pregando e lo Spirito Santo cominciò a parlarci. Dio cominciò a farci delle promesse meravigliose, a darci degli ordini e a dirci di andare avanti a congregarci, di andare avanti a pregare, perché Lui avrebbe fatto di noi, che eravamo quattro all'epoca, avrebbe formato da questo piccolo ovile, formerà una Chiesa molto grande in Colombia e in tutto il mondo. E così il Signore disse, provvederò tutto il necessario affinché la mia Chiesa possa crescere e io mi incaricherò di portare le persone, le anime, convertirò io e i cuori e starò nella vita di ognuno di loro per convincerli di quest'opera meravigliosa che io ho preparato. Pertanto voi andate avanti a pregare, perché io vi darò il sostegno. E io ringrazio il Signore, perché sono trascorsi più o meno 50 anni e anche più e il Signore ha compiuto le Sue promesse che ci fece all'epoca. Ha compiuto perché Lui ci promise di darci anche i doni spirituali. ci prometteva che lo Spirito Santo si sarebbe manifestato tra di noi e che Lui avrebbe fatto grandi miracoli, segnali, guarigioni, prodigi. Lui sarebbe stato sempre la protezione di ogni uomo e di ogni donna. E così Dio lo ha compiuto. Lo ha compiuto, tanto che in Colombia si può dire che oggi ci sono chiese in tutti i paesi e in tutte le città. In tutta la Colombia c'è la chiesa. Sono molti paesi che mancano. In tutto il Sud America, Centro America, Nord America, Europa, c'è la chiesa del Signore. Possiamo dire che in tutti i paesi e in tutte le città c'è almeno una chiesa. E in alcuni posti anche dell'Africa. in Giappone, in Cina, le isole, in Australia, Nuova Zelanda, Islanda. In tutti questi posti c'è la chiesa del Signore. Ed è Dio che ha fatto quest'opera meravigliosa, perché Lui l'ha promesso e Lui l'ha compiuto. E Dio si sta manifestando con il Suo potere attraverso lo Spirito Santo. E questa è la differenza che noi abbiamo rispetto ad altre altre denominazioni o chiese o posti. Questa è la differenza, e cioè che Dio si manifesta tra di noi col Suo Spirito Santo, con i doni spirituali meravigliosi. Perciò, se qualcuno ha una curiosità e ci chiede perché noi abbiamo successo nella nostra vita, è perché Dio è con noi, perché Dio ci parla, perché è Lui che ci convince. È Lui che convince. E infatti è Lui che fa prosperare la Sua chiesa in tutto il mondo. Non c'è il potere umano. La mano umana non è capace. È Dio che fa questa meraviglia di avere una chiesa unita, di unirci. L'unità, e questa è una cosa meravigliosa, è Dio con lo Spirito Santo. E siccome è Dio con lo Spirito Santo, oggi parleremo appunto della promessa che Dio fece al popolo di Israele nell'antichità. Dio fece promesse a quel popolo, da Mosè, fece promesse che Lui avrebbe inviato il Suo Spirito Santo, che Lui avrebbe sparso il Suo Spirito su tutti gli esseri umani che avrebbero creduto in Lui e che avrebbero disposto il cuore per Dio. E che Dio sarebbe stato con l'umanità, insegnando i Suoi cammini, insegnando la Sua dottrina. che Dio si sarebbe manifestato attraverso la profezia, sogni e visioni. Che Dio avrebbe posto nella Sua chiesa apostoli, profeti, evangelisti, maestri e pastori. Queste sono le promesse che il Signore fece già nell'antichità. E sono promesse che noi oggi stiamo vedendo compiute da parte del Signore. Il Signore ha compiuto poco a poco tutto quello che ci ha promesso e la cosa più bella è avere il Suo sostegno. Oggi, pertanto, faremo una meditazione, un insegnamento di questa meravigliosa promessa, cioè della promessa che Dio fece nell'antichità al popolo di Israele, cioè che avrebbe sparso il Suo Spirito Santo. E noi oggi stiamo godendo di questa promessa meravigliosa. Però prima canteremo l'inno numero 26 che si intitola Gloria a Dio. Cantiamo senza la musica. Canteremo con la nostra gola, ma soprattutto col nostro cuore. Io suppongo che voi siate seduti, rimanete pure comodi e così lo daremo Dio e ascolteremo anche l'insegnamento. Questo inno dice così, inno 26, coloro che hanno il libro degli inni lo possono cantare da lì, fratelli e le sorelle della Chiesa, e dice così. A los hijos del Señor pertenece il cantare, poi vendrà il Salvador e ci si arrebatara. del Palacio Celestial, gozaremo più allà. Glorias a Dio, aleluia. Oh la indecibile gloria del divino amor, glorias a Dio, aleluia. che su salma lleva il alma donde il salvador, glorias a Dio, aleluia. A los hijos del Señor pertenece il cantare, poi vendrà il salvador e ci si arrebatara. del Palacio Celestial, gozaremo più allà. Glorias a Dio, aleluia. Che vistosi sono gli angeli morando in luce, glorias a Dio, glorias a Dio, a los hijos del Señor pertenece il cantare, poi vendrà il salvador e ci si arrebatara. Del palacio celestial, gozaremos más allá, glores a Dios, aleluya, coronados en la gloria con el Salvador, glores a Dios, aleluya, cantaremos alabanzas del divino amor, glores a Dios, aleluya, a los hijos del Señor, pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial, gozaremos más allá, glores a Dios, aleluya. Gloria a Dio, così come dice questo inno, gli onori e le glorie sono per Dio, grazie a Dio per la vita. Ogni giorno che noi apriamo gli occhi, la mattina, diciamo, è un giorno in più di vita che Dio mi dà. Sebbene il tempo passi così veloce, in tutti i modi, coloro che vivono con Dio, coloro che abitano con il Signore, il tempo per loro è oro, è felicità, allegria e piacere. In mezzo a tante difficoltà, noi gioiamo nel Signore. Io prima vi dicevo che Dio fece una promessa meravigliosa, più o meno 50 anni fa, e oggi noi stiamo godendo di questa promessa. Per questo io voglio condividere con tutti voi questa testimonianza, di questa promessa che Dio ci ha fatto, e cioè che Lui avrebbe inviato il Suo Santo Spirito e che il Suo Santo Spirito ci avrebbe insegnato tante cose nella vita. Così il Signore ha compiuto la Sua promessa, e per questo io voglio condividerla con voi, affinché anche voi possiate cercare questo Dio vivo. e chiedete a Lui che vi dia il Suo Spirito. Chiedete a Lui che si manifesti nella vostra vita. Chiedete che lo Spirito Santo stia nei vostri cuori, così che l'uomo è felice quando Dio è con Lui, quando Dio è con noi, quando Dio è nella nostra vita. Noi siamo felici, la vita è migliore, e tutto è più facile, e tutto passa, tutto quello che succede poi passa, le sofferenze, le tribulazioni passano, non sono così pesanti, perché Dio ci consola, e ci dice, non ti preoccupare, che tutto questo è passeggero, è un momento difficile ma passerà, non ti preoccupare, poi arriverà la calma, arriverà il trionfo, la benedizione, non ti angosciare, perché io ti aiuterò, ti benedirò, ti farò andare avanti. Tutte queste sono parole consolatrici che Dio dà attraverso la profezia, attraverso i sogni, visioni o rivelazioni. Dio ci dà tutto questo, ecco perché voi dovete sapere da dove noi prendiamo tanta felicità, perché siamo così felici nel Signore. Adesso apriamo la Bibbia nell'Antico Testamento, nel Libro dei Profeti, Profeta Gioele. Nel Libro del Profeta Gioele, il Profeta Gioele stava profetizzando nella stessa epoca nella quale profetizzò il Profeta Esaia. nell'epoca del re d'Israele, in quell'epoca c'erano il re Joas, Amassia, e in quel tempo Dio si era manifestato ed era prima della venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Ed erano circa 800 anni prima del Signore Gesù Cristo, prima della sua venuta, approssimativamente. E Dio parlò attraverso Isaia, Gioele e altri profeti, inviava messaggi al popolo di Israele e gli diceva loro di pentirsi, di pentirsi, di allontanarsi dall'idolatria, di allontanarsi dai peccati. C'erano adulteri, furti, ipocrisie, ricatti, invidie, c'erano tante cose in quell'epoca prima della venuta del Signore Gesù Cristo nel popolo di Israele e il Signore aveva innalzato il popolo di Israele perché fosse perfetto, fosse all'altezza del Signore Gesù Cristo ma non fu così. Il popolo si allontanò da Dio e fece tutto quello che le altre nazioni vicine facevano, tutto il male. Ecco perché Dio si arrabbiò con il popolo di Israele. Pertanto Dio inviava loro profeti dando messaggi di esortazione, anche di, sì, di rimproveri ma il Signore poi dava anche delle promesse, delle benedizioni se si pentivano. Diceva al popolo se ti penti io ti benedirò con questo o con quell'altro. Tuttavia questo non accadde. Ecco perché Dio decise definitivamente di terminare il popolo di Israele non fu più il popolo prediletto del Signore. Pertanto la storia ci racconta poi che in Gerusalemme Dio inviò il re di Babilonia per distruggerla, per distruggere il Tempio che il re Salomone aveva costruito in Gerusalemme per Dio e questo produsse molta tristezza, desolazione nel cuore di tutti gli abitanti di Gerusalemme e prima di succedere tutte queste cose Dio aveva parlato, aveva avvisato, tra l'altro aveva avvisato anche tramite Gioele. Se voi leggete la storia potrete vedere che tutto questo successe circa 700-800 anni prima della venuta di Gesù Cristo e Gioele appunto 800 anni prima profetizzò e questa profezia di Gioele in capitolo 2 verso 28 questa profezia di Gioele noi oggi la viviamo nella nostra chiesa nella chiesa di Dio ministeriale di Gesù Cristo internazionale stiamo vivendo questa esperienza meravigliosa gloria a Dio e dice così nel verso 28 dopo questo cosa significa quello che è successo nel capitolo 1 parte del capitolo 2 che furono dei rimproveri di Dio verso il popolo di Israele dicendo loro non peccate allontanatevi dal peccato guardate che arrivano giorni di benedizioni nei quali arriva il re perfetto dove arriva il principe di pace dove arriva il consolatore un messia arriva un re lui sarà un re perfetto vi darà la felicità la pace ecco Dio diceva tutto questo diceva allontanatevi dal peccato perché io non voglio castigarvi ecco Dio diceva tutte queste cose ma il popolo non ascoltò ecco perché nel 28 dice dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito diceva Dio dopo che io ho inviato il castigo dopo che ho castigato i colpevoli li ho distrutti e siano stati rasi e tolti dalla faccia della terra io restaurerò Gerusalemme ma non sarà più una Gerusalemme fisica materiale ma sarà tutto spirituale sarà un regno spirituale e i credenti i seguitori di questo regno apparterranno appunto al regno di Dio o al regno dei cieli e cercheranno Dio in spirito e in verità perché tutto sarà spirituale ecco perché dice così dopo questo dopo tutto questo che ho detto avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne dopo questo cioè dopo che il popolo di Israele visse e fu governato prima dalla legge di Mosè e il popolo doveva compiere i comandamenti a livello fisico per poter gradire Dio e Dio quindi offriva qualcosa di spirituale per il futuro offriva il regno spirituale diceva il popolo e dopo aver avvisato il popolo di quello che lui voleva fare disse avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne sopra ogni uomo e donna significa i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno i vostri vecchi faranno sogni i vostri giovani avranno visioni in quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve questi servi e serve sono quel gruppo di superstiti che Dio aveva salvato prima della distruzione del popolo di Israele qui Dio già anticipa attraverso la profezia di Gioele che avrebbe protetto un gruppo di superstiti per mezzo dei quali sarebbe giunto il Signore Gesù Cristo quindi Dio non avrebbe sterminato tutto il popolo di Israele ma avrebbe salvato un gruppo quindi dice sopra anche i servi e le serve cioè il gruppo di superstiti spargerò il mio spirito santo gruppo di quei giudei che furono appunto trasportati da Gerusalemme a Babilonia e rimasero schiavi a Babilonia per 70 anni quel gruppo di superstiti fu protetto da Dio e quindi anche per loro e per le loro generazioni future sarebbe arrivato lo Spirito Santo perché gli stessi serve e serve che vissero in Babilonia schiavi non poterono vedere la presenza in futuro del Signore Gesù Cristo perché Gesù Cristo apparve dopo questa profezia di Gioele apparve sulla terra dopo 700-800 anni perciò queste serbe e serve non lo poterono vedere non poterono vedere Gesù Cristo predicare sulla terra lo videro le generazioni future 30 farò prodigi nei cieli e sulla terra sangue fuoco e colonne di fumo quando il Signore Gesù Cristo stava predicando lui fece tanti miracoli guarigioni lui risuscitò i morti il Signore fece tante cose meravigliose grandi prodigi e gran parte del popolo fu testimone di questa opera prodigiosa del Signore Gesù Cristo 31 il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue ma non era il sole fisico non era la luna fisica ma erano i governanti della Giudea o di Israele o di Gerusalemme quei principali quei sacerdoti quei governanti i farisei che insegnavano la legge di Mosè tutti loro erano delle grandi stelle come il sole che brillava come il popolo di Israele perché il popolo di Israele era il suo prediletto e tutte le nazioni confinanti dicevano che il Dio di Israele era un Dio potente ecco perché il popolo di Israele brillava all'inizio come il sole ma tutto questo era simbolico figurativo la luna è la stessa cosa gli abitanti di Gerusalemme in Giudea erano come una luna che si sarebbe trasformata in sangue perché una volta che il Signore Gesù Cristo cominciò a manifestarsi la luna e il popolo quindi cominciarono ad essere umiliati ad essere svergognati perché umiliarono il Signore Gesù Cristo quindi il Signore permise che il sole sarebbe stato tramutato in tenebre e non illuminare più ma non era il sole fisico era il popolo di Israele che non sarebbe più stato una luce per le nazioni vicine non sarebbe più stato così rinomato tra le nazioni vicine perché Dio aveva tolto tutto il potere e le benedizioni al popolo di Israele quando appunto il Signore Gesù Cristo apparve sulla terra per predicare il regno dei cieli 32 e avverrà che chiunque uomo o donna che invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato il nome di Dio il nome dell'Eterno l'Eterno si dice Jehovah in latino o in greco ma in qualsiasi lingua Dio capisce tutte tutte le lingue perché Lui è il creatore è il proprietario di ogni cosa e qui dice chiunque invoca il nome dell'Eterno sarà salvato in spagnolo si dice Jehovah con la Jehovah con le due vocali aggiunte perché all'inizio era una parola ebraica semplicemente con le consonanti ma si aggiunsero le vocali per poterlo pronunciare ma è comunque Dio pertanto dice chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato perché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà salvezza certo perché il Signore Gesù Cristo apparve in Gerusalemme predicando il regno dei cieli come ha detto l'Eterno vi sarà salvezza come ha detto l'Eterno e fra i superstiti che l'Eterno chiamerà certo l'Eterno chiamò dal popolo di Israele dal popolo giudeo un gruppo di superstiti e questo gruppo di superstiti avrebbe creduto nel Signore Gesù Cristo e nel regno dei cieli qual è la prova di questo accaduto? gli apostoli perché gli apostoli provengono da questo gruppo di superstiti che il Signore scelse quindi noi vediamo che questa è una cosa accaduta e questa cosa è una è accaduta 700 anni prima della venuta del Signore Gesù Cristo poi passiamo in Giovanni nel Vangelo di Giovanni capitolo 14 nel Vangelo di Giovanni capitolo 14 siamo già nell'epoca del Signore Gesù Cristo sono già passati 700 anni e qui la storia ci racconta di tutto quello che il Signore Gesù Cristo fece sulla terra di tutti gli accadimenti in Gerusalemme in Giudea quando Lui stette lì a predicare il suo Vangelo perfetto o il Regno dei Cieli in Giovanni capitolo 14 verso numero 15 io prima vi dicevo che avremmo insegnato oggi circa la promessa dello Spirito Santo una promessa che il Signore fece circa 50 anni fa infatti io vi ho raccontato la mia testimonianza personale perché 50 anni fa vi ho raccontato che Dio ci parlava eravamo in 4 persone e Lui ci parlava attraverso la profezia e ci diceva di andare avanti perché Lui avrebbe innalzato una chiesa molto grande in Colombia e in tutto il mondo sono passati 50 anni e fratelli e sorelle e coloro che ci stanno vedendo vi racconto che ci sono circa 1200 chiese nel mondo in 60 paesi del mondo godono della presenza della chiesa ci sono anche gruppi piccoli pertanto il totale è che i gruppi che si congregano sono 101 in tutto il mondo quindi vediamo che dopo il Signore Gesù Cristo fino ad oggi sono passati 2000 anni circa e vediamo la promessa compiuta Dio non si dimentica mai delle promesse Dio non ha la concezione del tempo per Lui non esiste il tempo per Lui un giorno è come mille anni e mille anni è come un giorno per Lui non esiste il tempo il tempo esiste per noi esseri umani ma al Signore non si dimentica mai delle promesse come in Gioele Lui l'aveva promesso che Lui avrebbe sparso il suo Spirito Santo anche 50 anni fa ce l'ha detto noi oggi stiamo godendo di questo di questa promessa però sono necessari cuori umili semplici disposti che accettino e che credano nel Signore per far sì che Dio si manifesti ecco l'invito che io vi faccio attraverso questa lettura disponete il vostro cuore siete umili lasciatevi guidare da Dio e vedrete come Dio arriverà nei vostri cuori nella vostra vita vi darà la felicità vi darà pace felicità e tante ricchezze ricchezze spirituali e perché no anche ricchezze materiali ad alcuni darà questa è la promessa di Dio e noi stiamo parlando di questa promessa cioè dello spargimento dello Spirito Santo passarono circa 700-800 anni perché questo libro di Giovanni fu scritto molto molti secoli dopo Gioele il Signore Gesù Cristo qui Giovanni stava già predicando il suo Vangelo il Regno dei Cieli e dizze pentitevi perché il Regno dei Cieli si è avvicinato e che cos'era il Regno dei Cieli chi era il Regno dei Cieli era il nostro Signore Gesù Cristo lui era il Re del Regno dei Cieli quel Re che governa oggi i nostri cuori per coloro certo che si lasciano governare da Dio lui è il Re che governa il Regno dei Cieli il Signore disse il Regno mio non è di questo mondo il Regno mio è celestiale gloria al Signore il Signore sta regnando e tutti quegli uomini quelle donne che si dispongono e che si lasciano guidare da Dio allora Dio comincia a regnare nella loro vita gloria al Signore nel verso 15 il Signore Gesù Cristo quando comincia a evangelizzare ad insegnare ai Suoi Apostoli e alle persone che lo stavano ascoltando in quel momento dice loro se mi amate osservate i miei comandamenti ma i comandamenti del Signore Gesù Cristo erano gli stessi comandamenti che Dio diede a Mosè sulle tavole di pietra su gli stessi comandamenti verso 16 dice ed io pregherò il Padre dice Gesù ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre qui non dice per cent'anni no perché chi sta leggendo la Bibbia si rende conto che lo Spirito Santo rimarrà per sempre fratelli o persone che mi state vedendo o ascoltando persone forse che vanno in altra chiesa e state leggendo la Bibbia leggete questo verso vedete in questo verso il Signore Gesù Cristo promise e disse io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore oltre il Signore Gesù Cristo ci sarà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre non ha mai detto il Signore che lo Spirito Santo sarebbe soltanto per la Chiesa Primitiva per la Chiesa Apostolica come alcuni dicono alcuni dicono che tutto questo era per la Chiesa Apostolica per la Chiesa Primitiva che oggi lo Spirito Santo non esiste più dicono che Dio è morto dicono che Dio si è perso si è nascosto oppure che Dio ha perso il potere no, non è così non è così perché qui c'è la promessa del Signore che dice per sempre cosa significa per sempre io penso che anche per voi per sempre significa fin quando io vivrò per me per sempre significa fin quando io morirò questo per sempre finisce quando io morirò quindi il per sempre dura tutta la vita di un essere umano la manifestazione dei doni spirituali e lo spargimento dello Spirito Santo durano per sempre dopo la morte siccome è lo stesso Dio lui vive vive dopo la morte lui continua a regnare continua a governare lui continua a benedire anche dopo la morte il suo popolo ma da un altro punto di vista diverso qui in questo verso però stiamo parlando di esseri umani in carne ed ossa e dice io me ne vado però vi manderò un consolatore perché io chiederò al Padre che questo consolatore rimanga con voi per sempre cioè fino all'ultimo giorno della vostra vita poi dopo la vostra morte rimarrà per sempre con voi fino a che tu vivrai e dopo la tua morte perché lo Spirito Santo continuerà con te a vivere per sempre 17 questo consolatore si chiama lo Spirito della Verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce ma voi lo conoscete dice ai suoi apostoli voi lo conoscete perché dimora con voi cioè lo Spirito Dio dimora in voi ma quando io me ne andrò e arriverà il consolatore lo Spirito Santo starà in voi nel vostro cuore per ora sta con voi perché vi sta circondando è vicino a voi lo Spirito Santo il consolatore ma quando io me ne andrò il consolatore arriverà in voi entrerà in voi nel vostro cuore dimorerà con voi e sarà in voi dentro di voi nel vostro cuore nel cuore di ogni uomo e di ogni donna e quando lo Spirito di Dio sta nel cuore di un uomo o di una donna quest'uomo e questa donna smettono di peccare non peccano più non c'è più adulterio fornicazione omicidi sequestri furti non ci sono invidie vendette non c'è nulla di queste cose egoismo avarizia non c'è nulla di questo perché lo Spirito di Dio sta dimorando in quell'uomo e in quella donna e lo Spirito li pulisce e gli toglie le tendenze peccaminose facendo sì che essi vivano una vita retta che siano sì esseri umani ma una vita con una vita retta onorabile come esempio per tutte le altre persone e che vedano appunto la loro testimonianza i loro esempi è per questo che il Signore ha lasciato lo Spirito Santo per cambiare la vita pertanto il Signore Gesù Cristo dice non vi lascerò orfani tornerò a voi non vi lascerò orfani perché lo Spirito Santo arriverà poi il Signore Gesù Cristo comincia a dire nel 19 ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più ma voi apostoli mi vedrete poiché io vivo anche voi vivrete in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me ed io in voi perché? perché lo Spirito di Dio concede questa unione lo Spirito di Dio unisce unisce gli esseri umani a Dio e voi saprete apostoli che io sono nel Padre e il Padre in me e voi siete in me e io in voi chi può fare questo miracolo? lo Spirito di Dio che unisce lo Spirito del Signore è colui che fa questo miracolo affinché un uomo e una donna possano essere figli di Dio sono esseri che hanno Dio nel loro cuori la loro buona testimonianza le loro buone opere i loro buoni esempi parlano da soli e questo è un grande mistero ma questo è quello che alcuni di noi stiamo godendo noi stiamo godendo questa meravigliosa promessa del nostro Dio la stiamo godendo da più di 50 anni e abbiamo visto che è vero abbiamo visto che veramente il Signore è lo stesso di ieri e di oggi e Lui sarà lo stesso nei secoli dei secoli Dio non cambia perché Dio non ha né un inizio né una fine Lui non ha un tempo come noi Lui è un Dio duraturo Lui è onnipresente Lui è ovunque e Lui è sempre attento alle sue creature ai suoi figli a quegli uomini a quelle donne che vuole benedire Lui ascolta Lui ascolta tutti Lui sa chi veramente lo sta cercando con il cuore e lo invoca col cuore e questo è un invito che io vi faccio a voi oggi oggi vi sto invitando a scoprire la ricetta o la formula alcuni dicono dammi la ricetta mi dicono dammi la formula perché ci sono così tante chiese nel mondo la vostra chiesa è in tutto il mondo e siete così uniti se io che gestisco una chiesa di 500 persone è per me molto difficile non sono capace di gestire la mia chiesa ci sono conflitti divisioni ci sono sempre problemi tra i credenti e io non riesco non riesco e i credenti se ne vanno perché non riesco a trattenerli la gente si arrabbia formano altri gruppi di credo a parte formano altre chiese ognuno è inconforme e formano altre chiese al loro modo non sono mai d'accordo non vogliono mai mettersi d'accordo con me cosa devo fare mi dicono dammi la ricetta la formula mi chiedono questo e io vi sto già dando la ricetta e la formula la promessa dello spirito santo è la formula la promessa che lui fece nell'antichità è quella che dà il successo quando il signore Gesù Cristo venne sulla terra a predicare il suo vangelo poi morì salì al cielo dopo tre giorni risuscitò e poi rimase 40 giorni per insegnare nuovamente che sarebbe arrivato lo spirito santo e disse loro guardate che arriverà il consolatore questa è la ricetta questa è la formula non fu solamente per la chiesa apostolica di quell'epoca no perché sono passati più di 2000 anni e noi da 50 anni a questa parte stiamo godendo di questa benedizione stiamo godendo dello spirito santo stiamo godendo della profezia delle visioni dei sogni stiamo godendo dei doni spirituali un giorno di questi leggerò sui doni spirituali perché vi voglio dare anche la ricetta completa la formula completa vi darò vi insegnerò la formula completa perché io non sono egoista anzi al contrario io desidero che tutti stiano con Dio che si possano salvare che tutti siano felici che tutti possono avere la mano di Dio al proprio fianco per essere aiutati io desidero questo per tutta l'umanità io desidero che tutti possano essere felici in tutti gli aspetti della vita e io vi darò la formula completa per mancanza di tempo non posso darla oggi completa ma ve ne posso dare un pezzo pertanto vi inviterò e vi invito a continuare ad ascoltare per avere la formula completa finché anche voi possiate ricevere lo spirito di Dio come noi lo stiamo godendo da 50 anni a questa parte ecco perché noi siamo convinti che non fu solamente per la chiesa primitiva apostolica questa promessa perché Dio ha continuato a manifestarsi attraverso il tempo nel tempo si è manifestato nei cuori che veramente vogliono disporsi e amarlo senza essere materialisti né interessati alle cose materiali della vita ma amare Dio con tutto il cuore allora in quel caso Dio si manifesta quando io vi darò l'intera ricetta vi darò anche cosa esige Dio affinché si compia questa ricetta nella vostra vita nel 21 Dio dice chi ami ai comandamenti e li osserva è colui che mi ama questo è quello che vi dicevo prima bisogna smettere di peccare come diceva il Signore Gesù Cristo ma chi ci aiuta a smettere di peccare lo spirito lo spirito santo lui entra nel nostro cuore e ci toglie l'appetito la voglia di peccare è lui che ci aiuta e pertanto non ci saranno più invidie gelosie adulteri fornicazioni tutte queste cose perché noi avremo timore di Dio rispetto di Dio e ameremo ancora di più il nostro prossimo senza farlo soffrire e dice pertanto chi ha i miei comandamenti e li osserva egli è colui che mi ama e chi mi ama sarà amato dal padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a lui che bella promessa cioè quando gli uomini e le donne conoscono Dio e lo spirito santo entra a vivere in loro nei loro cuori loro smettono di peccare cominciano ad amare Dio e qui c'è la promessa perché dice chi ama me sarà amato dal mio padre e io lo amerò e mi manifesterò e com'è che si manifesta Dio in noi? Dio si manifesta con guarigioni prodigi segnali liberando le persone dando pace dando felicità l'allegria provvedendo tutto il necessario il lavoro il denaro una casa dei vestiti proteggendoli dai pericoli dalle minacce proteggendoli dal male di qualsiasi tipo di malvagità queste sono le benedizioni e queste sono le manifestazioni di Dio nella vita nella vita vostra Dio dà il materiale Dio concede lo spirituale Dio permette che voi abbiate pace felicità nei vostri cuori e che voi abbiate qualcuno in cui aver fiducia a cui ricorrere nei momenti di bisogno nel momento di pericolo di tribulazione voi avete qualcuno a cui ricorrere cioè a Dio il nostro padre il nostro signore e lui è sempre attento a risolvere a risolvere le vostre questioni ad aiutarvi queste sono le manifestazioni di Dio quando lui dice io mi manifesterò sono queste le sue manifestazioni negli esseri umani che lo amano e che fanno la sua volontà nel verso 23 fanno una domanda nel 22 anzi c'è questa domanda signore come mai ti manifesterai a noi e non al mondo Gesù Gesù rispose e gli disse se uno mi ama osserverà la mia parola e il padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo dimora per esso di lui la promessa qui è per tutti stavano malinterpretando la parola il signore dice colui che osserva la mia parola colui che ama il padre mio io amerò loro e lì benedirò verso 24 dice chi non mi ama invece non osserva le mie parole e la parola che udite non è mia ma del padre che mi ha mandato vi ho detto queste cose mentre ero con voi e nel 26 enfatizza ancora il signore ma il consolatore cioè lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome una volta che io salirò in cielo dice il padre manderà nel mio nome lo spirito santo e che vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto perché lo spirito santo arriverà diceva il signore Gesù Cristo e starà con voi per sempre per tutte le generazioni future che cercheranno Dio e questo è vero perché noi diamo le testimonianze nella nostra chiesa ci sono testimonianze che Dio si manifesta con i doni spirituali che Dio ci protegge in questi giorni in questa pandemia che noi stiamo vivendo in questa crisi mondiale il signore si è manifestato nella vita di tanti uomini e di tante donne guarendoli proteggendoli da questo virus li ha fatto uscire dagli ospedali sani e salvi e anche quelli che si sono ammalati in casa non hanno avuto bisogno di andare in ospedale perché Dio ha fatto miracoli li ha guariti nella loro stessa casa pertanto oggigiorno il signore sta facendo tanti miracoli perché ci sono anche oggi tante persone bisognose che non hanno da mangiare e il signore ha provveduto loro del cibo miracolosamente il signore fa apparire denaro a queste persone bisognose e in questo modo Dio li ha benedetti compiendo così il signore le sue promesse pertanto Dio vive Lui esiste pertanto vi invito affinché cominciate da adesso a investigare sulla promessa dello Spirito Santo cominciate ad indagare sulla promessa dello Spirito di Dio che si muove in mezzo agli esseri umani qua giù sulla terra qua giù noi abbiamo lo Spirito Santo o lo Spirito di Dio che ci sta insegnando ci sta guidando ci dà il sostegno ci dà una vita nuova ci trasforma è lo Spirito Santo che è qui con noi che si manifesta attraverso il dono della profezia attraverso i sogni il signore dà tanti sogni alle persone attraverso i sogni Dio orienta guida di come fare le cose e si manifesta attraverso le visioni pertanto Dio si sta manifestando e questo è parte della ricetta parte della formula che voi tanto mi chiedete cioè com'è che noi possiamo avere unità o rispetto per Dio perché perché è Dio che è nei nostri cuori è Lui che infonde il rispetto i valori è Lui che ci infonde l'amore è Lui che ci dice come fare la sua volontà perché noi non siamo governati da esseri umani noi siamo governati direttamente da Dio e dello Spirito Santo magari ci sono persone ribelli stolte che non vogliono accettare né credere e loro vogliono deviare ma se il Signore vuole può dare anche a loro dei sogni delle visioni il Signore si manifesta e dice loro no vieni con me vedrai che io ti metterò nel posto giusto non essere ribello non essere stolto è così che fa Dio perché Dio ama tutti e Lui vuole che tutti arriviamo alla sua conoscenza pertanto l'invito è per tutti leggete la Bibbia indagate indagate nell'Antico Testamento perché io so che a tanti piace l'Antico Testamento e non credono nel Nuovo Testamento indagate nell'Antico Testamento vedrete che troverete tanto materiale per andare a leggere il Nuovo Testamento a chi piace il Nuovo Testamento e l'Antico no allora leggete nel Nuovo Testamento e vedrete che anche lì troverete la manifestazione dello Spirito di Dio dello Spirito Santo e saprete cosa farà un giorno Dio Dio un giorno vi convincerà e quel giorno voi vi innamorerete di tutta la Bibbia sia dell'Antico che del Nuovo Testamento perché è Dio che pone nel cuore questo pertanto l'onore e la gloria siano per Dio adesso preghiamo il Signore preghiamo per i bisogni per le richieste preghiamo per i desideri del cuore per le vostre necessità ci sono persone che mi raccontano che sono angosciati perché non riescono a dormire perché sono tormentati da spiriti durante la notte e che non riescono appunto a dormire ci sono persone inoltre che si sono ammalate ci sono persone che si spaventano durante la notte dicono di sentire delle voci che non riescono a dormire altri che sentono il desiderio di togliersi la vita altri che non hanno cibo altri che non hanno denaro per pagare i conti per pagare le cose necessarie della vita quotidiana perciò preghiamo preghiamo il Signore e chiediamo al Signore per tutto questo preghiamo per noi e preghiamo anche per gli altri per le persone bisognose per gli ammalati negli ospedali nelle case chiunque essi siano preghiamo per tutti e vi dico che in questo momento ci sono persone che sono isolate nella loro casa e dicono che non riescono a dormire in pace se in quella casa ci sono persone che vanno in chiesa che hanno sentito di Dio allora imponete le mani a queste persone che sono tormentate perché sembrano essere delle maledizioni delle stregonerie degli spiriti cattive imponete le mani anche se ancora non avete ricevuto lo Spirito Santo anche se ancora non avete i doni fatelo credendo in Dio credendo che Dio in quel momento è lì e che è misericordioso Dio vede l'intenzione della persona pertanto imponete le mani sopra quella persona che ha dei dolori delle malattie ponete le mani e chiedete a Dio vedrete che Dio ascolterà e farà i miracoli e la guarigione preghiamo Padre Celeste Eterno Dio grazie Signore per oggi ti diamo l'onore la gloria le lodi sono per te Signore ti ringraziamo per il tuo amore grazie per le tue promesse per la promessa che tu ci hai fatto già dall'antichità hai fatto questa promessa ai tuoi servi ai tuoi figli hai fatto promesse meravigliose Signore e tutto tu lo stai compiendo nel tempo alcune promesse ci hai impiegato anni per compierle ma altre promesse le hai compiute molto velocemente nella nostra vita e noi sappiamo che tu ci fai costantemente promesse che ti manifesti con noi così come lo hai fatto nell'antichità lo fai anche oggi tu ti manifesti con l'uomo lo hai fatto con noi per questo crediamo in te per questo abbiamo fiducia in te Signore per questo noi non vogliamo fare né attenzione alla stoltezza né all'incredulità delle persone né ai dubbi alla ribellione delle persone perché ci sono tante persone ribelli incredule che fanno del male ma noi non diamo credibilità a queste cose anzi andiamo avanti cercando te perché crediamo in te abbiamo fiducia in te ti abbiamo sentito nella nostra vita tu sei una realtà nella nostra vita Signore perciò nessuno ci sta convincendo che tu esisti perché noi siamo convinti da noi stessi dalle nostre esperienze noi sappiamo che tu vivi che tu esisti che tu parli che tu rispondi che tu concedi desideri dei nostri cuori tutto quello che ti chiediamo in preghiera per questo Signore siamo davanti a te in questo momento guarda Signore ci sono migliaia di persone che sono qui oggi davanti alla tua presenza ognuno avrà una richiesta ognuno avrà una necessità ognuno soffre di un problema ognuno ti sta clamando per quello di cui ha bisogno ascoltali Signore abbi misericordia ascoltali Padre Santo perché in questo momento loro non hanno l'opportunità di andare in chiesa a congregarsi per ricevere le imposizioni delle mani o per far sì che qualcuno preghi per loro o ricevere profezia pertanto Signore Tu li guiderai attraverso i sogni e le visioni e sarai Tu con ognuno di loro sollevandoli dai loro carichi dalle loro tribulazioni i loro bisogni supplendo tutti i bisogni Signore la Tua mano potente compie compie miracoli e guarigioni togliendo togliendo il cancro togliendo questa malattia incurabile il cancro ed altre malattie che Tu conosci Signore inoltre guarisci le persone che sono ammalate nei loro organi interni nei loro organi esterni la loro pelle Signore che Tu possa pulire ci sono persone che perdono i capelli in continuazione a causa di malattie pertanto togli il Signore malattie dalla colonna vertebrale fino ai piedi dalla testa ai piedi liberali Signore libera tutte queste persone che ti stanno chiedendo guarigioni Padre ascolta le loro preghiere ascolta le loro suppliche abbi misericordia perché noi sappiamo che la Tua benignità è per sempre sappiamo che le Tue promesse sono fedeli e veraci e che Tu sei un Dio potente che ci ascolti grazie Signore grazie Padre Santo stendi la Tua mano sopra ogni malattia togli questa pandemia Signore togli tutto questo male Signore che porta povertà porta miseria all'umanità benedetto Dio stendi la Tua mano abbi misericordia concedi opportunità agli uomini e alle donne di trovarti Signore di incontrare il Tuo cammino di conoscerti di seguirti di cercarti di adorarti di lodarti perché Tu sei degno Signore Tu sei degno di rispetto Signore benedetto Dio manifestati alle persone manifestati Signore grazie Padre Santo stendi la Tua mano misericordiosa benedicendo liberando pulendo ognuno di loro Signore benedicendo ognuno di loro in tutti gli aspetti sia materiale che spirituale tutto questo te lo chiediamo nel nome glorioso di Gesù Cristo tuo Figlio amato per Lui siano le lodi le glorie nei secoli dei secoli ame gloria al Signore cantiamo al Signore il coro numero 12 che dice la gioia del Signore la mia forza è gloria al Signore la gioia del Signore la mia forza è la gioia del Signore la mia forza è la gioia del Signore la mia forza è la sua gioia in abbondanza Lui mi dà se senti questa gioia puoi tu cantar se senti questa gioia puoi tu danzar se senti questa gioia puoi tu grida la sua gioia in abbondanza Lui mi dà la gioia del Signore la mia forza è la gioia del Signore la mia forza è la gioia del Signore la mia forza è la sua gioia in abbondanza Lui mi dà se senti questa gioia puoi tu cantar se senti questa gioia puoi tu danzar se senti questa gioia puoi tu grida la sua gioia in abbondanza Lui mi dà gloria al Signore così è il Signore il Signore dà la gioia nel cuore disposto molte benedizioni per tutti voi che Dio vi benedica e sarà a presto grazie Dio vi benedica